Il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento dell'autorità nazionale anticorruzione guidata dal magistrato Raffaele Cantone. Bisogna verificare, dicono consiglieri comunali e attivisti del Movimento, le procedure con cui il servizio mense scolastiche comunali è attualmente assegnato a Cirfood, colosso modenese della ristorazione cooperativa, e lamentano anomalie, in particolare alla fine del 2016. A scadenza di un bando precedente di sei anni di durata, il nuovo bando è stato indetto con tre mesi di ritardo e i tempi poi di esecuzione della gara hanno richiesto un anno di vacanza, durante i quali, attraverso il susseguirsi di ben quattro proroghe, la Cir, che era la vincitrice del palto precedente, è rimasta a fare la fornitura nelle scuole ferraresi. E perché secondo voi questo non va bene? Questo non va bene perché l'ANAC ha dato delle indicazioni precise rispetto all'evitare il più possibile le proroghe rispetto ai contratti di appalto in essere, in virtù del fatto che questo sarebbe un modo di aggirare il nuovo appalto. Ma c'è una spiegazione dell'amministrazione, se non vado errato, no, su questo? Esattamente, l'amministrazione aduce a motivazione di questo il fatto che era stato presentato, sempre dalla Cir, un project financing per la realizzazione di un centro pasti a Ferrara, all'ex Macello. E allora noi ci chiediamo, tanto che il nuovo appalto è di durata annuale, mentre quelli precedenti sono sempre stati di durata triennale. E allora noi ci chiediamo, è corretto subordinare la durata di un appalto di tanta importanza al fatto che c'è un project financing che è allo studio e che tuttora è fermo a quanto l'amministrazione ci dice?